Ciao ragazzi, nello scorso video della serie Italiani nel Web3 Gaming ho parlato con Giorgio, il community manager di Civitas e Machine Arena ed è stata una chiacchierata molto interessante con degli spunti molto utili per le persone che vogliono conoscere questo settore anche dietro le quinte. Nel video di oggi vi presento il moderatore di Blog Games, un progetto di cui avevo già parlato su questo canale, italiano anche lui, vi presento Emanua... Vi presento Emanuele, detto Stevie. Ciao Emanuele. Ciao a tutti ragazzi. Cosa si dice? Cosa bolle in pentola? Tutto bene, dai, diciamo che Blog Games è un progetto che sta andando avanti, si sta sviluppando, abbiamo tante cose a servire per il futuro. Qual è il tuo ruolo all'interno di Blog Games e in che cosa consiste? Allora, il mio ruolo all'interno di Blog Games è quello di moderatore principalmente e di community manager italiano. Io mi occupo comunque di moderare tutte le chat, le conversazioni, aiutare gli utenti in caso di bisogno, comunque rispondere a domande, assistere gli utenti comunque in tutto e per tutto in quello che è il processo di inserimento nel mondo dei Blog Games, nell'applicazione dei Blog Games e poi mi occupo anche di gestire in parte la community italiana. E come retroscena, anche quanti anni hai? Perché appunto sei molto giovane, si vede, magari chi guarda questo video da casa vuole sapere un po', anche lui magari sta cercando lavoro nel Web3 Gaming, insomma, come sei riuscito a trovare questo lavoro nel Web3? Allora, io ho 22 anni e sono lavorato in informatica e sono riuscito a trovare questo lavoro nel mondo Web3 in maniera veramente casuale, forse la definirei. Ero entrato nel progetto di Blog Games, nel loro primo progetto che era Shutterpoint e il progetto mi piaceva, ero interessato, quindi scrivo in chat, comunque aiutavo le persone, già di mio, senza avere secondi figli o comunque voler diventare un moderatore. E a quel punto poi, tra una cosa e l'altra, tra il passaparola degli utenti, comunque hanno fatto una buona pubblicità, chiamala così, su di me, mi hanno scritto quelli di Blog Games e mi hanno proposto questa opportunità, dopo comunque un colloquio, quindi ci ho parlato un po' con loro, così abbiamo valutato questa cosa insieme e sono arrivato qui, ad oggi. Devo raccontare un retroscena perché in uno dei video in cui ho parlato anch'io di Shutterpoint, avevo menzionato il tuo nome nella chat italiana perché ti vedevo molto attivo e quindi dicevo, insomma, è un progetto valido ed era bello vedere italiani attivi nel Web3 Gaming, quindi è un cerchio completo perché penso che quel video fosse di estate 2022, quindi quasi un anno e mezzo. Può essere. Sì, diciamo che è sempre bello cercare di coinvolgere gli italiani, la comunità italiana, che ad oggi comunque è ancora molto limitata in questo mondo ed è sempre comunque interessante, divertente provare a espanderla ed è anche bello il tuo lavoro, quello che fai te oggi. Sì, non è facile, poi magari nei prossimi video porteremo anche qualche content creator a condividere la sua esperienza, però mi interessava particolarmente il ruolo da moderatore e ne avevo parlato anche nella scorsa puntata con il community manager di Civitas e Machine Arena Giorgio perché anch'io avevo dato il consiglio di iniziare nei progetti gratuitamente impegnandosi, moderando, rendendosi proattivi e così si potrebbero aprire delle opportunità. Poi no, immagino che tu abbia iniziato come moderatore ma che se volessi potresti anche scalare e diventare community manager con l'esperienza che hai fatto, poi non so se con il tuo percorso di studi sei interessato al percorso o meno. Diciamo che comunque come opportunità se ne hanno moltissime, poi comunque anche ad oggi, non dico giornalmente ma quasi, comunque ci sono progetti che ti scrivono, che mi scrivono e che vogliono comunque collaborare con me, comunque vorrebbero avermi il loro progetto, sono diversi progetti e quindi questa è un'opportunità che si ha comunque una volta che si è dentro un progetto come può essere Blog Games o qualunque altro progetto di una certa dimensione, comunque di un certo calibro e ti dà anche questa opportunità anche per poterti espandere e valutare anche altre opzioni, altre strade e poter anche magari avviare qualcosa di più che essere un semplice moderatore. Perché lo definisci semplice moderatore? È un ruolo comunque importante, no? Sì, è un ruolo fondamentale all'interno della community, però è anche un ruolo che alla fine a livello di responsabilità sono molte, ma non sono come potrebbero essere quelli che hanno un community manager o comunque una persona che magari si occupa anche banalmente di social, comunque sono tutti lavori importanti, fondamentali, a prescindere perché poi comunque avere un disco pulito, avere una chat comunque che si comporta umanamente perché tante volte le persone si dimenticano dentro uno schermo di essere degli umani e si comportano in maniera veramente tante volte arrogante forse ed è bello comunque anche potersi interfacciare con queste persone, magari aiutarle a capire cosa hanno sbagliato o cosa a noi abbiamo sbagliato perché noi non è che siamo perfetti, tante volte anche a noi capita di sbagliare, bisogna anche in quei casi coprirsi il capo di cenere e ammettere poi i sbagli e cercare di parlare con la community, con le persone e valutarle insieme anche Anche per curiosità, tu fai 20-40 ore a settimana, insomma anche i diversi contratti che ci sono a livello di moderatore come ti organizzi gli orari, se è compatibile anche con altri impegni? Allora io questo tra i due metri lavoro, chiamolo così, di moderatore, lo faccio comunque nelle ore in cui sono disponibile perché io ho un altro lavoro, perché lavoro come programmatore di base e lo faccio più per passione comunque per divertimento e anche comunque una cosa che ritengo fondamentale anche per tenermi allenato anche sull'inglese, che è la lingua comunque che parla i giorni quindi è sempre utile questa cosa e a livello di contratto diciamo che secondo me dipende molto dal progetto in cui si è nel caso di bloggames comunque hanno buone prospettive comunque per i moderatori mentre per altri progetti con cui ho parlato con altre persone vengono più trattati male, forse come termine sbagliato però nel senso a livello anche di remunerazione economica è inferiore a quale i bloggames però penso anche che magari puoi iniziare senza esperienza anche in un progetto dove secondo me non vieni pagato, vieni pagato poco appunto per avere quell'esperienza all'interno perché appunto si può pensare magari che fare il mod sia facile ma comunque avere degli orari, dover gestire le comunicazioni secondo me è molto importante e non è da sottovalutare quindi consiglio sempre personalmente l'esperienza gratuita è un hacking per farsi un po' di portfolio e quando poi ci sono delle opportunità insomma poterle sfruttare sono d'accordissimo con te iniziare gratuitamente in qualche progetto che anche che lo fai gratis comunque prendendo percependo poco a livello economico è sempre un vantaggio più che altro anche per l'esperienza personale per capire dove si è sbagliato, dove si può migliorare e come gestire anche tante situazioni che comunque spesso si ripetono che sono negative, positive ma almeno si ha un'idea di come comportarsi anche perché comunque tu lo fai come secondo lavoro ma insomma non comunicheremo la cifra che guadagni però io lo so ed è una buona cifra anzi in Italia non è scontato comunque comunque noi abbiamo l'opportunità di lavorare online comunque dietro un computer a casa secondo me è un'opportunità incredibile perché da lì hai modo di connetterti a una community globale di crescere tu e fare esperienze ma soprattutto secondo me lavorare da remoto quindi vuol dire che puoi lavorare da ovunque nel mondo è qualcosa che ti dà una flessibilità incredibile non hai costi comunque a livello di spostarti in macchina e quindi è comodo comunque volendo sei fuori per esempio tante volte mi capita anche a me banalmente di dover uscire magari il sabato pomeriggio perché purtroppo in questo lavoro si lavora anche il sabato a domenica Blue Games abbiamo di questi tipi di orari qua però il vantaggio è che magari uscendo comunque hai modo di essere col smartphone e guardare Discord, seguire Discord, seguire le conversazioni, la chat tutto quanto e poter lavorare anche da fuori casa cosa consiglieresti a uno spettatore che sta guardando di 20-22 anni che magari studia all'università e vuole fare o iniziare a fare questa carriera secondo te cos'è più importante il networking lo studio di qualche fonte particolare o la pratica? questa è una domanda molto interessante perché anche io ho iniziato così mentre ero uno studente universitario la prima cosa è la conoscenza delle lingue e delle lingue in inglese principalmente poi se uno conosce più lingue è ancora meglio comunque hai molte opportunità a prescindere ma quello penso che sia così in tutti i lavori poi una seconda cosa fondamentale in questo tipo di lavoro è la pazienza con le persone che tante volte veramente ti viene voglia di dire mollo tutto me ne vado e lascio qua il loro destino invece anche in quei momenti devi essere in grado di valutare la situazione in maniera coerente in maniera comunque sensata e dare una risposta adeguata alla persona e alle volte purtroppo sono risposte che le persone non vogliono sentirsi dire però è la risposta che devi dare in quel momento e rischi anche ma tante volte purtroppo di prenderti degli insulti per modo di dire a queste persone diciamo che questi qua sono i parametri fondamentali secondo me e la voglia puoi mettersi in gioco soprattutto e per curiosità visto che lo hai menzionato qual è stato per te il momento peggiore o quello che ti ha portato al limite che hai detto no non ce la faccio più basta c'è stato c'è un evento che ti ricordi che hai detto no basta mollo tutto allora un evento così catastrofico ti direi di no però capita spesso che magari stai lì che stai cercando di dare qualcuno che non vuole essere salutato in quel momento perché magari lui è tu uno schermo e pensa o comunque magari è un titolare di un NFT comunque è un holder della community e pensa di poter fare quello che vuole nella community di poterti dire quello che vuole quando comunque dietro dall'altra parte dello schermo cioè me o un altro moderatore o chiunque ci sia è una persona e quindi comunque è sempre brutto sentirsi offesi o comunque trattati male per modo di dire da queste persone e questo penso che vale in tutti i lavori poi comunque diciamo che queste skill sono fondamentali forse in veramente tanti lavori del web 3 l'inglese la proattività e la pazienza sono fondamentali ma a livello se dovessi dare un consiglio proprio di come dovresti fare per trovare il lavoro da moderatore sicuramente di divertirsi e aiutare le persone aiutare le persone a prescindere poi dal fatto che sei un moderatore o no anche perché comunque dà una certa immagine di te all'interno della community e hai un valore poi magari in quella community e questo può essere forse il consiglio principale che una persona può darti se vuoi iniziare a diventare un moderatore o comunque entrare fra parti di questo mondo o puoi andare a diventare anche committee manager o ancora più in alto quello poi dipende da te ed è le tue esperative che hai parti positive e negative penso che questa sia la parte anche più interessante mi immagino le negative però sono curioso anche delle positive da moderatore di un progetto quali possono essere? allora le parti positive di fare un moderatore sono come detto prima il fatto che è tutto a remoto e quindi hai la libertà comunque di muoverti di valutare cosa fare tante volte quando farlo anche perché poi non è detto che hai dei orari fissi nel mio caso io ho dei orari fissi io comunque perché ho degli accordi con bloggames e quindi ho degli orari fissi però non è detto perché prima comunque anch'io lavoravo quando volevo praticamente avevo soltanto un limite di ore dovevo fare e quindi questo è un aspetto positivo dell'esperienza poi un altro aspetto positivo secondo me sono anche le persone perché come detto prima ci sono persone che ti fanno passare la voglia di fare un moderatore ma tante altre che invece ti motivano a farlo anche tante volte da un lato si può dire forse ci tengono al progetto al community magari anche a te come persona e questo sicuramente è una cosa fantastica e un altro aspetto positivo comunque è anche la possibilità di interfacciarsi con chiunque nel mondo perché veramente c'è una diversificazione di persone di gente che entra che parla con cui puoi anche parlare di cose che non c'entrano niente con Web3 quindi è fantastico anche il livello di cultura personale a me è capitato moltissime volte di parlare con ragazzi che venivano dall'Africa dall'Indonesia così che mi dicessero cosa mangiavano cosa non mangiavano e mi dicevano provalo provo questo piatto è buono e quindi comunque è un'esperienza particolare che comunque è divertente e comunque ti accultura come persone in primis mentre gli aspetti negativi sono come ho detto prima le persone perché quelle sono sia positive che negative cioè quelle non scappi da lì secondo me poi dipende anche lì dal progetto in cui sei cosa fai però anche magari gli stipendi perché tante volte comunque i moderatori sono pagati o in token che sono sempre un punto di domanda purtroppo possono andare bene o andare male quello non lo sappiamo oppure sono addirittura non pagati o pagati veramente poco una miseria e questo è un altro aspetto negativo poi per quanto è uguale la mia esperienza io aspetto sempre l'aspetto economico l'organismo dei pagamenti è sempre puntuale quindi comunque mi sono trovato bene con loro su questo punto di vista però anche lì sono di altre persone che hanno uscito pagamenti in ritardo di mesi però sono sempre punti che dipendono dove finisci dove lavori con chi lavori con che persone lavori invece per il punto negativo che hai detto delle persone da moderatore ti è capitato mai di questo puoi dirlo non lo diciamo a nessuno di chiccare qualcuno di bannarlo perché insomma magari aveva detto qualcosa a te in particolare no io non ho mai bannato o chiccato nessuno per motivi personali non me la sento di comunque di dire a una persona ti chicco perché mi stasso le balle scusatemi il francesismo se chicco una persona o la banno dal server c'è sempre un motivo valido che può essere una persona che spamma una persona che o che insulta altre persone capito finché insulti me alla fine ti dico vabbè poi come sono fatto io sono abituato ormai dici me la faccio entra giù magari messaggi prima cosa che faccio è cancellare i messaggi seconda cosa ti porti un ticket per parlare della situazione comunque perché prima di bannarti comunque mi piace anche cercare di capire il motivo di quella cosa perché magari è un ragazzo che ha avuto una giornata pessima e non si può sapere questa cosa e quindi credo che sia interessante anche valutarle poi tante volte ti rispondono anche i ticket ti rispondono veramente male e a quel punto poi sei costretto da un lato o a mutarli scelta numero uno che è quella che solitamente faccio io per evitare comunque di punirli purtroppo se poi persisto in azione anche dopo che il timeout è passato a quel punto si passa il ban e più o meno quanto fai di timeout giusto per allora noi diamo da linea guida blog games poi comunque è una cosa anche personale dipende dal moderatore io personalmente cerco di timeoutare le persone il meno tempo possibile per comunque vedere anche come si comportano dopo il timeout perché tante volte quelle 10-20 minuti di reset mentale possono bastarti a tranquillizzarti e soprattutto a noi nemicati le persone entri nella community tra l'altro quella è una cosa fondamentale secondo me cercare comunque di avere una community salda e con non con dentro persone comunque che stuffe dei moderatori della community del serve dello staff questo è un bellissimo take devo dire cioè è più profondo di quanto pensassi perché effettivamente avere l'empatia di mettersi nei panni di una persona e dire ok perché sta insultando e non passare subito al kick o al ban è qualcosa secondo me di veramente apprezzabile da un progetto non l'avevo mai sentito quindi mi fa molto piacere e spero che anche le persone che stiano ascoltando e che magari vogliano fare i moderatori possano prendere spunto da questo avevo una domanda su le tendenze su come le segui e soprattutto se hai delle tendenze particolari su twitter o discord che segui per rimanere aggiornato principalmente uso due media che sono youtube e twitter in cui guardo magari i progetti nuovi emergenti interessanti su twitter poi comunque è forse l'ambiente dove c'è più messaggi più gente comunque scrive anche di mondo crypto comunque mondo web 3 e sono i due mezzi che seguo maggiormente quelli quando guardo un progetto io lo guardo sempre con gli occhi dell'investitore seguo magari la news iniziale vedo com'è magari scopo un progetto nuovo però poi vado a vederlo personalmente il progetto com'è lo analizzo lo guardo lo valuto faccio le mie considerazioni l'altro mondo è quello che devo fare qualunque investitore nel mondo e se poi il tempo è interessante è valido a quel punto magari lo approfondisco ancora di più e magari ci investo anche e mi comporto questo è un po' la routine che seguo solitamente io e a livello di moderazione invece guardi qualcosa in particolare è difficile pensare a un video per moderatori però non so prendi ispirazione da qualcun altro oppure dici no semplicemente diciamo che a livello di moderazione mi piace fare me stesso diciamo e comportarmi come mi comporterei io poi giustamente se qualcuno ti fa notare anche gli altri moderatori ti dice io mi sei compagno in questo modo qua è una cosa che io posso opinare o no comunque la mia scelta quella però dal suo punto di vista lo valuto tante volte a me capita comunque di quegli altri moderatori di bloggames di interfacciarsi parlarci magari dirci vicenda ti sei compagno in questo modo perché l'hai fatto perché non l'hai fatto e comunque si può crescere anche quel modo di ascoltare prima degli altri e valutare anche altri punti di vista dalla tua esperienza diretta da moderatore hai visto più speculatori investitori più giocatori all'interno dei discord e anche magari come inquadri uno e come inquadri l'altro tipo purtroppo nel mondo del web 3 i giocatori veri affezionati alla community sono pochi la maggior parte sono tutti quanti investitori o speculatori io d'altronde preferisco parlare con i giocatori veri sono le persone che mi piace più in Italia della community perché anch'io di base sono un videogiocatore mi piace giocare mi diverto a giocare preferisco quel tipo di persone però l'altronde sono consapevole che esistono il 90% delle persone che sono investitori o speculatori del progetto però non ecco pregiudizio verso di loro l'altronde ognuno fa le sue scelte e è giusto che sia così poi questo è il bello perché il mondo è libero invece per quanto riguarda le piattaforme che utilizzi o i tool che utilizzi di più usi dei traduttori cia gpt intelligenza artificiale oppure abbastanza tranquillo su discord su discord è tranquilla la cosa non uso mai strumenti come può essere cia gpt o altri strumenti strani magari a volte ti capita di utilizzare un traduttore perché magari c'è qualcuno che scrive o fa una ricerca online perché magari trovi un utente che ti scrive con uno slang che non comprendi che magari è complicato oppure c'è un utente che usa una parola che non sai e vai a cercarti cosa vuol dire la parola però altri strumenti a livello di moderazione non li uso e a livello di invece evoluzione dello space web3 gaming come vedi i prossimi anni i prossimi mesi questa è una domanda difficile questa la valutare diciamo che i prossimi anni sicuramente saranno una grande sliding door per il mondo web3 soprattutto per valutare il futuro di questo mondo in base anche al a come si volverà d'altronde perché poi quello è la cosa fondamentale se ci saranno progetti tripla magari grandi progetti che entraranno sul mercato quella sarà sicuramente una cosa fondamentale per questo mondo perché ad oggi purtroppo questi progetti qua sono molto limitati o sono quasi assenti dal tutto e questo come è un grande difetto di questo mondo ad oggi e poi siccome è un'altra cosa fondamentale di questo mondo qua è anche valutare poi il reale utilizzo poi degli nft di questo mondo perché ad oggi è brutto a dire questa cosa ma il web3 è ancora molto ancorato degli standard come possono essere quelle web2 perché d'altronde ad oggi se mi compro una skin su un gioco web2 o su web3 c'è poca differenza se non il fatto che posso rivenderla perché se poi l'azienda fallisce le web3 la mia skin farà zero e tanto vale a dire che l'azienda web2 è fallita quindi questo sarà anche un fattore fondamentalissimo per valutare anche una possibile evoluzione una possibile anche ampliamento comunque di questo mondo questo è un good point ma secondo te è possibile che fallisca questo settore che tutte le aziende non lo so smettano di investire nel web3 gaming e tornano nel web2 oppure dici prima o poi succederà allora secondo me che falliscono tutti è quasi impossibile comunque finché ci sarà anche soltanto un'azienda che investirà in questo settore qua non fallirà mai il settore e io spero succederà con un salto di qualità soprattutto nel tipo di progetti che abbiamo a disposizione perché ad oggi la maggior parte dei progetti come ho detto prima non sono progetti belli da giocare è brutto da dire ma è così sono veramente pochi quei progetti che dici wow questo è un gioco che mi diverte non perché posso guadagnarci o perché posso avere le MFT e lì secondo me è il punto fondamentale dell'escussione se tu fai un bel gioco la gente gioca poi questa cosa è abbastanza matematica e Shutterpoint ti piaceva? ci giocavi? Shutterpoint ci ho giocato parecchio comunque essendo anche il moderatore di Shutterpoint ci giocavo anche comunque perché sì mi divertiva ma anche comunque per aiutare anche gli utenti di base perché se io che sono un moderatore non so come funziona il mio gioco è complicato anche da spiegare poi a te che entri e dici mi fai la domanda su un gioco che io non so non ce l'ho anche mai avviato il gioco di base comunque era carino forse è un punto importante nel senso che quindi devi giocare al gioco quando sei moderatore perché comunque se devi dare dei consigli ti conviene sapere come funziona il gioco non sei obbligato è più una cosa personale perché comunque se tu sai come hai fatto il tuo gioco come hai fatto l'applicazione secondo te potrai aiutare le persone molto meglio rispetto a non saperla a non conoscerla a fondo e secondo me questa è una cosa che può aiutarti nel tuo lavoro se vuoi fare un moderatore può aiutarti anche a interfacciarti meglio con le persone comunque hai la possibilità di capire molto prima qual è il problema dell'utente se tu sai qual è il problema già di base tante volte anche a Shutterpoint è capitato che c'era un bug che i moderatori hanno scoperto prima degli utenti e sapevano già qual è la soluzione al bug anche se il team stesso non sapeva ancora la soluzione molto interessante spero che nei commenti qualcuno ci dica che ha trovato lavoro come moderatore grazie a questa intervista sono fiducioso che entro qualche anno qualcuno prenderà spunto se dovessi dire invece la tua parte preferita del web tra in generale tra ownership NFT crypto community qual è quella che ti viene in mente quando pensi web3 gaming quando penso web3 gaming mi vengono in mente gli NFT che sono una cosa molto interessante comunque è piacevole possederli in senso comunque è bello comunque avere un bel wallet con qualche NFT interessante e poi l'altra parte molto bella di questo mondo che spero si continuerà a evolvere è sicuramente la community con le persone spero sempre più che ci siano persone sempre più risposte a volere giocare per divertirsi più che per guadagnare in questo mondo e spero che questa crescita compimiti di fatto e secondo te qual è la parte più sottovalutata invece del web3 questa è facile 100% la sicurezza sia lato aziendale e sia lato utente medio comunque persona perché comunque anche il recente caso Ledger ci dimostra che è un mondo comunque sempre in pericolo perché l'azienda ha avuto delle falle di sicurezza in quel caso ed è una cosa che non deve succedere comunque a prescindere e mentre il lato utente perché capita tutti i giorni veramente è quasi straziante vedere su disco la gente che sono disperati perché hanno stati drenati hanno perso il loro patrimonio le loro cose il loro wallet è comunque veramente brutto perché poi chiedono a te e tu non puoi dire niente purtroppo non puoi fare niente per loro anche a me è successo di essere drenato è veramente una sensazione pessima sì raccontaci racconto ma è le stesse volte è successo addirittura però ero proprio albori ai inizi ero dove collegavo il wallet veramente è peggio siti feccia del mondo del web 3 e giustamente l'ho pagata per fortuna avevo poco capitale sul conto quindi alla fine è stato quasi indolore per me però è successo anche a me quindi comunque so cosa si prova e non è una bella sensazione purtroppo non c'è abbastanza ad oggi secondo me non c'è abbastanza informazione quindi informazione sotto la sicurezza a livello della persona perché tante persone vedo che collegano ancora ad oggi il loro wallet da qualunque sito magari vedono un link su twitter o cliccano e cliccano sul link è pericoloso comunque l'altronde anche perché ci sono alcuni caratteri che sono diversi ma in realtà sono uguali te li vedi come uguali tipo i caratteri russi sono indistinguivi da quelli comunque che siamo noi attualmente però in realtà ti portano su un sito diverso clonato dove tu prendi i wallet e ci fai ciao ai tuoi tuoi soldi e quindi comunque non è bello e bisogna stare molto attenti a queste cose quindi andare sempre dagli offici al link sicuramente è sì e forse è ancora meglio digitassero te il link sulle tue cose che sei sicuro che quello è il link giusto controllano sempre al 100% quello che stai facendo e invece su discord siete mai stati hackerati? no su discord non ci hanno mai hackerato comunque abbiamo la buona sicurezza credo per ora non ci hanno ancora sì esatto questo video server di bloggames è distrutto no comunque discord permette di esposizione molti strumenti utili come può essere l'autenticazione due fattori ci sono molte precauzioni quindi anche soltanto la gestione dei permessi di discord è fondamentale e anche noi moderatori dobbiamo stare molto attenti ai nostri account noi sappiamo perché abbiamo dei accordi anche con l'azienda che non devono cliccare su link immagini post strani comunque qualunque cosa che possa mettere in pericolo il nostro account perché comunque se un utente entra con un account moderatore c'è un pericolo che metta dei link che la gente trasterà perché comunque vedono che vengono da un moderatore è un bel danno per l'azienda soprattutto oltre che per l'utente in sé e secondo te questo è un punto che mi interessa particolarmente se un moderatore viene hackerato e qualcuno nella community viene drenato quindi perde tutti gli NFT che ha nel wallet come si agisce in quel caso? non mi è mai successo fino ad ora quindi penso che dipenderà anche molto dall'azienda in cui i propri lavori se un'azienda magari che si prende la responsabilità di questa cosa può darti un rimborso se invece un'azienda che non gli ne frega niente come tante sono oggi purtroppo possono far finta di niente e ti lasciano senza soldi e tu alla fine le hai presa in quel posto d'altronde perché comunque il rischio è sempre il tuo da utente che se clicchi sul link sai sempre che ti metti in pericolo se non è un link ufficiale dipende il rischio però li dipende sempre dall'assumare dall'azienda per cui lavori e come si vogliono comportare loro E quanti siete come moderatori su Discord? Ad oggi siamo 5 moderatori in Blue Games da un po' altre parti del mondo Italia Germania Inghilterra America comunque perché noi copriamo venticamente 24 set e quindi siamo costretti a essere sparsi per il mondo Finisco con tre domande leggere perché sono curioso del tuo take su quando sarà la prossima Burran Allora se avessi la Sfera di Cristallo penso che non staremo qua a parlare in questo momento però magari ti avrei anche detto che ero gentile nel senso comunque bella domanda questa è una domanda interessante magari il 2025 un bel annetto il 2025 deve essere un bel annetto comunque molte notizie interessanti l'FT comunque anche il fatto dell'holding che verrà tra poco sono tutti i fattori che potrebbero farci pensare nella possibilità Burran poi da qua a dire poi come sarà il mercato tra neanche non dico tre mesi dico domani cioè già potrebbe essere quante volte capita che ci alziamo la mattina apri un bel un bel grafico e vedi BTC sceso del 20% in una notte vabbè un bel buongiorno proprio proprio questa settimana in cui stiamo registrando bitcoin è passato da 40k a 47 da un momento all'altro quindi vedremo infatti anch'io ho aperto il grafico spaventato un altro giorno quando è verde ti spaventi in modo positivo sì sì in senso ero molto contento di questo spavento in senso però e secondo te qual è il prezzo di bitcoin per cui capisci ok siamo in burran se arriverà a superare i massimi precedenti è sicuramente un segnale questo poi comunque bisogna sempre capire come reagisce il mondo a queste cose comunque perché sappiamo tutti quanti com'è facile dumpare una cripto comunque pumparla in qualche modo perché una cosa che non capiremo mai sono le persone che quando bitcoin a 30k no è troppo costoso a 60k poi lo comprano e gli chiedo vabbè ok contenti voi sulle vostre scelte però lì sicuramente sarà un indicatore questo per dirci ok siamo in burran molto è anche il sentiment perché quando il bitcoin scende tutti dicono ah no adesso scende di più quindi aspetto a comprarlo quando sale tutti dicono adesso sale di più quindi a 60 dici lo compro già ora quando scende poi è sempre no adesso va a zero è morto ormai è finita invece poi alla fine è sempre lì d'altronde se dovessi dire la tua cripto o le tue cripto preferite non è financial advice quindi non è un consiglio finanziario anche perché non avrei le conoscenze per le consigli finanziari no comunque mi piacciono personalmente sarò troppo classico però bitcoin e ethereum mi piacciono parecchio comunque invece anche ti dirò anche matiche non mi dispiace ha questo perché questo fascino che comunque mi ha sempre intrigato collezione nft preferita qui chiudiamo che giochi in casa vuoi dire la tua collezione nft in assoluto preferita posso fare il paraculo e dire blog games i dice no come ho fatto con Giorgio risposta paraculo e risposta fincera a prescindere comunque i blog games comunque i dice e i blog games mi piacciono come collezione perché hanno ci vedo un gran potenziale comunque dietro questa cosa assoluto perché non perché c'è lavoro ma perché so magari cose che purtroppo o per fortuna agli utenti ancora possiamo dire e quindi comunque ahia non dico niente non dico e comunque quelli sicuramente poi un'altra collezione che mi piace che è carina secondo me che potrebbe avere un buon potenziale è quella di planet quest non so se vi presenti sono tipo un gioco spaziale diciamo un po' così strano però lì c'è dei pianetini c'è un bel pianeta molto carino poi se volete di ospito però anche quello comunque è un bel progetto secondo me è interessante Emanuele grazie per la chiacchierata spero che sia piaciuta anche alle persone che ci seguono su youtube fateci sapere nei commenti cosa ne pensate se vi piacerebbe anche fare i moderatori in futuro quindi Emanuele Stevie grazie grazie a te grazie mille un saluto a tutta la community ciao